Ciao, oggi vi faccio vedere la Karobitschka, che in realtà andrebbe pronunciata Karobuska, come ha detto Oksana, la nostra amica violinista. L'ho imparata a ballare nel 1980 con mia cugina Benedetta, che per fortuna mi ha portato la prima volta a fare danze popolari. Ci prendiamo per mano, io e la Pilli, e partiamo col piede sinistro. Che è quello con il calzino, blu. Facciamo sinistro, due, tre, su, destro, due, tre, su, sinistro, due, tre, su, apro, chiudo, apro, uno, due, tre, e batto, uno, due, tre, batto, uno, due, tre, batto, avanti, lontano, l'arca è più alta, alza il braccio e mi fa passare sotto. E ancora a destra, uno, due, tre, batto, uno, due, tre, batto, dondolo in avanti, dondolo indietro, lei alza il braccio, io sono più piccolina, passo sotto. Ci riprendiamo per mano, pronti con la bicicletta. e adesso con la musica. Ciao a tutti!